Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Mattia99, siamo a gennaio, nell'anno nuovo 2017 ragazzi, il 2016 è passato e siamo nell'anno nuovo che sarebbe il 2017, allora darò il buon anno a tutti, buon anno ragazzi, è stato un bel piacere di avere un anno nuovo in più e ora siamo nel 2017, evviva! Ok ragazzi, questo video è finito, ci vediamo al prossimo video, ciao!